Devo dire oggi un grazie veramente perché non me lo aspettavo, nel senso sapevo che poteva essere accolto con un po' di scientificismo, però come ho sempre detto vorrei essere giudicato in campo e darò tutto per questa maglia e spero che oggi sia stato il primo segnale di una lunga striscia. Veramente avevo una grande voglia di riparsa, di aiutare questo gruppo, il mister che mi ha dato grande fiducia, ieri quando me l'ha detto mentre mi allenavo ero molto felice, non me lo aspettavo neanche, sono molto contento anche perché i sacrifici che ho fatto in questo periodo per farmi trovare poi pronto ora vengono ribagati, quindi è anche una soddisfazione doppia. Non voglio dire nulla ma comunque sensazioni positive, spero appunto che l'ho dimostrato in campo e niente, mi mancava anche a me la Serie A, vederla da fuori non è stato facile ma sapevo che quando sarebbe toccato il mio turno non avevo voglia di farmi sfuggire questa occasione e come ho detto oggi è solamente un punto di partenza. Oggi secondo me abbia dato un segnale importante perché comunque è una squadra che ha combattuto su ogni pallone, una squadra che si è aiutata, penso che c'era bisogno anche in questo, in alcune partite con questo spirito possiamo lavorare a testa bassa a risalire. La strada è lunga ma come ho detto oggi deve essere stato un primo passo per tornare nei posti che meritiamo.